Signore e signore benvenuti a Juventus Spezia o Spezia Juventus? Juventus Spezia! Sì, è un disastro! Adesso gioca ancora, guardate, gioca ancora Rabiot, nonostante la prestazione terribile di tre giorni fa, già mancò? Ma perché? C'era un motivo! L'altra volta, non l'aveva detto, aveva la dissenteria, e quindi aveva mangiato, non lo chiamò! No, è un po' di giocare, fanno tutti, mi dicono, e questa volta non saranno scusanti! Beh, beh, adesso vediamo cosa combinano, che c'era la dissenteria, non lo sapeva! Stava male, vabbè, la sera prima aveva mangiato i funghi! Vabbè, va bene, Vabbè dai, Spezia che cerca un miracolo, e spero un gol di Zulat! Cerchiamo il miracolo, ragazzi! Vabbè, ragazzi, dai! Dai, Spezia, so che siete grammi, non andate niente, però... Piazza per Spezia! Eh, questo anche a me si perde, però... Cercheremo di vendere cara la pelle, amici spezzini! Spazzini! No, non si dice! Sì, che no, spazzini! Eh no, eh! Un po' di rispetto! Oh sì! Dai! Ma vincino! Che bravo! Metti in mezzo a rete, Zulat! No, niente, porca puttana, ma fai un gol no, eh! Che roba, sveglia un po'! Giusto cos'è! Siete distratti! Credete 10 superiori! Numero... Numero! Porca boia, Zulat! Zulat cerca di fare un miracolo! Spintonato, questo qua! Gredito! Lo Spezia aggressivissimo! E va che se è aggressivo! Dica, aggressivo da Dio! Eeeh! Va che parlo dello Spezia incredibile ragazzi! Incredibile! Spezia sfigatissimo! Inbambole la Juve! Dica, c'è schifo! Si! Mi trovi io! Inbambole la Juve! C'è schifo! Tutto Spezia! Dico, ora prende la palla la Juve! Eeeh! Eeeh! Buco qua! Scusa! Uffa come che volo! Che fisura bellesima dello Spezia! Che aggressivo! Inleve in pane! Aggressivo! Hahaha! Tacco dello Spezia, bellesimo! E va anche che bello Spezia! E va anche che prova a fare delle cose! mi ricordo dei fratelli bellissimi la spezia perché vado troppo in avanti e li vado a fare un inquadratore dell'emozione che ci regala questo spezia forche emozioni grandissima chiusura ireta buavissimo è aggressivissimo questo spezia partito così zola 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 niente ma che bellissima ancora la spezia al recupero del pallone ma che incredibile questo spezia quanto aggressivo è incredibile aggressivo dove ci spezia e va bene ragazzi noi siamo molto spezi dobbiamo essere aggressivi se no guarda che strattonato via tirato giù è proprio giusto i milioni che prende guarda male lui prende poco è un bravo ragazzo anche lui vai e ancora lo spezia aggressivo verde e roccio bellissimo guardate come ci cercano quei ragazzi qua si cercano da matti è la loro forza uno per tutti uno per tutti e spezia per una ancora spezia che recupera il pallone veramente fanno commuovere questi ragazzi vabbè io sto piangendo io si giuventini che cercano solo le giocate di prima per fregarci ma lo spezia attento e numero in difesa guarda che belli sono stupendi veramente stupendi per ora commuoventi veramente bellissimo l'Altis a cercare colli colli sulla fascia metterà in mezzo benzerà ha spiorato il gol dello spezia veramente belli veramente belli ah quanto brutta chiusura qua beh uno in meno chiuso benissimo ancora però per lo spezia giustamente bellissimo bellissimo recupera il pallone copa la presa no cerca di muovere se non ci riesce bravissimo ancora lo spezia recupera il pallone in avanti il passaggio per Anzola ancora per Anzola cerca di chiudere il triangolo niente da fare che spezia le spezia le spezia va che quanto va va più bastardo bravissimo però vedete il sicuro rilancia il pallone Mizzola spizza per il suo amico colli colli da solo ma benissimo il pallone benissimo boccherezza che sfiga merita questo spezia meriterebbe di più ma che roba chiusura una dietro l'altra un spettacolo spezzino se la scambiano sicuri dei loro mezzi niente fa una cazzata adesso qua ma chiudono ancora benissimo duri come delle bestie ma è giusto mi dare un po' di mamma mia che spezia una sofferenza ma una sofferenza ma questo è incredibile e va che roba ancora chiudere ancora essere tiro di prima stavolta da Juve è impossibile chiudere qua è fuori gioco ma è fuori gioco la fa grossa la fa grossa ancora sbaglia la guida lo rinvio c'era che no c'era che no benissimo go è bellissima ragazzi è bellissima rete di go niente parata incredibile che spezia pericoloso mamma mia ci vorrebbe un bel r2 lì ci voleva pericoloso pericoloso lì in mezzo spezia niente arriva la spezia bellissimo spezia cerca il triangolo ma dov'è si non c'è ho scompetuto un altro che sigla con il fatto di lì prima ma lo spezia è cattivo e riparte tranquillo vi c'è in mezzo colli con il pallone bellissimo il triangolo ecco la colli ci crede entra a dare di rigore e lo spezia riesce ad andare in vantaggio va che che sfiga torca vacca te spezia e vacca che roba brutta questa va bene bravo spezia e vacca che roba è bravo bravissimo provvedere di prima per Reca in avanti ma che belli che siete mamma mia bravi tenere ora che brutto capito brutto qua tenere vacca guarda che sfiga stavolendo stavolendo lo sfiga incredibile è un pallone e finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus e Spezia con uno Spezia con il possesso 55 e due tiri come la Juve incredibile vado avanti vado avanti che sudata secondo tempo secondo tempo secondo tempo che è stato il pallone è stato un pallone che è stato un pallone che è stato però è veramente spezia compatto cos'è? ma che è stato un pallone incredibile qua non si sa come ha controllato eh mamma mi ha sfiorato un accorso incredibile cosa fischio eh sì tranquillo tranquillo su cerchiamo la sorpresa con un isolà spizzi ma è una persona centralmente cerca di volarsi isolà niente recuperato oh mamma aiuto bravissimo spezia ancora per isolà però è fuori gioco purtroppo ragazzo erano volenterosi quei ragazzi che ho veramente una volontà di vendere cara la pellaccia la pellaccia ma che bella ma va che è anche bravi però a cercare di rubare il pallone bravo un anticipo incredibile rega bravissimo corre c'è un bel passo quel ragazzo qua ma che fa oh brutta entrate guarda mira guarda mira che figa ha un tocco che amore una equilibrizione sul dico di Ken figa spesa sei sfigatissimo però una sofferenza 51 minuti di resistenza guardate come dobbiamo beccare la gola allora ha proprio segnata la partita che roba figa tiro è pazzesca incredibile guarda che sfiga c'hai guardate qua si vede ancora meglio ragazzi una tristezza spezia qua questa tristezza qui veramente crea una botta morale guardate che roba paratissima invece gli fisi in faccia ah si incredibile forse il primo risultato che potrebbe che solo bel gol ah bel gol bello guarda che sono anche falsi quelli da Juve ascoltate cosa dicono bel gol prendono in giro lo spezia anche incredibile dopo quello che hanno subito fino adesso maraca niente ormai lo spezia mi sa che sta depresso non so se riuscirà a reggere ancora con il morale per aggredire la Juve vediamo non si può mai dire si rischia l'imbarcata ragazzi adesso però rischia l'imbarcata da momento all'altro l'imbarcata l'imbarcata protegge benissimo il pallone salta benissimo ancora un zola che lotta su ogni pallone viene steso niente non dicono niente l'imbarcata ancora un zola capabio tiro secco ma centrale l'imbarcata la parte di verde ma per il per il con le mani la vacca che roba la vacca incredibile nooo bellissimo toglia fuori ma scherzi no no non scherzi hai fatto una zanata ma scherzi no è terribile sbagliato il gol qua mi meritereste di beccare il pareggio alla fine si non esiste sbagliato il gol qua arriva fino a mezzo metro dal portiere ma che roba e lo sbaglia lo stesso credi di la senti la dibedo meriterebbero di beccare il gol o meriterebbero e ma che sei bella angolo lo voglio non so sarà bloccato tutto per il cuore qua ci vorrebbe l'angolo infatti c'è dai dov'è? ah non c'è va bene ma va che cosa vabbè fighe sarà un fisico incredibile ma vai c'è caro mazzi ma dai tiralo giù oh maizze fallo eh vabbè va bene così dai un'azione che andava a diventare pericolosa maizze va via va marcarla in mezzo non ci pensa tranquillo diciamo in mezzo guarda qualche azione guarda come si cercano con la tecnica un foco così già scusa scusa scusissimo imperioso guarda che stronzata guarda che bravo spezia poi imperiosi non c'è non vado a spese ho cominciato di buttare in aria qui ancora no ottimo controllo riparte non c'è nessuno aiutarmi non lo so devo fare tutto da solo niente 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 bene ah che bravi niente purtroppo siamo bravi ma dobbiamo essere un po' più efficaci bravissimo stavolta colli cerca il numero non lo trovo però alla fine il numero però cade il pallone e va che va a chi e va che si è bello va che ancora noi ancora Spezia bravissimo ma cos'è cosa fischiato cosa fischiato non stai inventando niente è fuori area è un triangolo bellissimo ah questo dai una bella punizia bravo dai Spezia regalaci un sogno speriamo che sia il tiratore decente almeno ragazzi un sogno che lavoro Spezia sfigatissimo ragazzi anche con la Juve incredibile un palo incredibile la Juventus sfortunata incredibile non va che incredibile proprio Spezia cosa subisce cosa fa in difesa cosa fa in difesa c'è giocano ancora che ragazzi è con noi che giocano ancora ma sono bravissimi perché hanno un cuore stellare c'hanno sono ancora qua ad attaccarti dopo quello che è successo ma che roba ma che roba no troppo in ritardo palla bellissima in mezzo all'area purtroppo troppo in ritardo doveva fare di prima fino a uno Spezia e Gagliardo che sfortuna veramente bravissimo Spezia mentre mi si accorta questa Juve che ha avuto un autogol fino a ora è sfortunato bravissimo ancora Colli 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 fa realire il suo scatto guardate come se ne va si ferma adesso un attimo chiacca qualcuno non l'aiuta nessuno nessuno che l'aiuta bravissimi qua ancora quei due Spezia si che duri come delle bestie e noi abbiamo 11 leoni e niente qua contro piede ma lo Spezia ancora che va a chiudere comunque e fa lo Slam e vabbè radio in mezzo radio cosa c'è la nuova età da di rienti C'è un tipo di numeri! Ma che vuole? Gli dice di no! Non l'avevi promesso l'aveva fatta! Provede! Gli dice di no! C'è la cavalcola! Mi piace a tutti! Mi manca! Dai, via questa palla del cavolo! Ottimo! Dai! Vieni! Bravo! C'è la rabbia! Dai, sciù! Ma chiudi! C'è la faccia! Dai, ultima chance! Che rinvio è? Ottimo! Ottimo! Non c'è nessuno! Dai! Dai, andiamo a chiudere! Bene, non ce l'ha anche bisogno! Ma che roba! Passaggi orrendi! Meriterebbe di subire un'ultima azione da parte dello spazio! Guardiamo un gollettino! Sarebbe ottimo! Che frase di prima! Sono 40 vasches in campo! Guarda che controllo è! Va bene, non c'è nessuno! Eh sì, c'è qualcuno! Ottimo! Lo vede! Lo vede! Tiro! Non la tira, ragazzi! E' incredibile! Lo vede benissimo! Non l'ho usato a tirare! Non ti credibile! Abbiamo già visto Goliath! Ottimo! Coro Spezia! E' incredibile! La volontà di per i ragazzi qua! Ma che bella! Niente! Purtroppo non gli sorride! Attenzione! Niente ragazzi! Ci proviamo fino all'ultimo goccio di sudore! Ma che bravi! Ma che bravi! Ma che bravi! Ancora il fantastico Kallei! Che ci invola! Bravissimo! Mette in difficoltà tutti! Kallei! E' quasi un tuo gol della Juve! Incredibile la fortuna! Il recupero! Bravo! Incredibile! Questo lo chiamo il recupero! Se ce la paga, andava dentro! E' incredibile la sfiga dello Spezia! Eeeh! Manca la para! Il difensore! Alexandro! Che non fa autogol! E' incredibile! Ultimo chance probabilmente per lo Spezia! Butta in mezzo! Buca che lavoro è! Figaro Abito fai schifo! Veramente! Veramente! Fai schi... Tolo! Te fai schifo! Devo farlo per a forza! Guarda come nasce l'azione! Scusa! Non vergogna! Proverò Spezia! Non ha fatto un fallo per la partita! Proverò Spezia! Che poverini! Mi fa la tristezza! Mi fanno! Ditto un gol! E' assurdo! Ma vabbè! Ma vi rendete conto che non avete meritato questa partita? Ti conto o no? Ancora Spezia! Incredibile! Incredibile questa Spezia! Ci vuole ancora! Passaggio in mezzo! Incredibile! Oh veramente! L'ultimo incredibile Spezia! E la Juve la porta a casa! Va bene! Va bene! Con un gol di Moise Ken! Ragazzi con un autogol veramente di Moise Ken! Bravissimi! Spezia favoloso! Guardate le statistiche contro la Juve! A favore dello Spezia! Io a favore vedo niente! Io vedo il possesso del 54! A 46! Che è lo Spezia! Fuori casa! E più tiri! Lo Spezia l'anno scorso aveva vinto in casa del Milan! Ah benissimo! Quindi va bene! Quindi? Un saluto a tutti! La porta a casa da Juve! Alla prossima! Ciao ciao!